Nell'ambito dell'operazione Buon Natale Sicuro, i carabinieri della compagnia di Randazzo, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno svolto una specifica attività finalizzata alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali ed anche delle norme del Codice della Strada. Al riguardo, nel corso di un'ispezione effettuata in un bar di Randazzo, i militari hanno denunciato il titolare, un 66enne del posto, per utilizzo di impianto di videosorveglianza in assenza di accordo sindacale e di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Il commerciante, infatti, aveva fatto installare nei locali del suo bar un impianto di videosorveglianza in assenza dei previsti requisiti di legge. Nel corso della medesima attività, i militari dell'arma hanno altresì deferito il proprietario di un altro bar, un 61enne del posto, per omissione della sorveglianza sanitaria sui lavoratori, poiché non aveva provveduto a far sottoporre i lavoratori alla prevista visita medica per l'idoneità alla mansione. Nel frangente è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore irregolare, circostanza che ha fatto scattare la maxisanzione per lavoro nero, che unitamente alle altre violazioni amministrative comporterà il pagamento di un importo di oltre 6.000 euro. È stata inoltre disposta la sospensione dell'attività commerciale e sono state attivate altresì le procedure per il recupero di contributi Ips e Inail non versati dall'azienda per un importo pari a 700 euro. Nell'ambito del comprensorio randazzese inoltre sono stati istituiti numerosi posti di controllo per garantire l'osservanza del codice della strada da parte degli utenti. Con il dispiegamento di pattuglie per il controllo dinamico dei veicoli, sono stati sottoposti a controllo 49 autoveicoli ed identificate 110 persone con la contestazione di 27 infrazioni al codice della strada, tra le quali la mancanza di copertura assicurativa per un importo complessivo di oltre 7.000 euro.